Nella festa della visitazione di Maria, ultimo giorno del mese mariano, nei giardini vaticani si è tenuta la tradizionale processione con la recita del rosario. I fedeli, guidati dal cardinale Angelo Comastri, hanno raggiunto la grotta della Madonna di Lourdes, che riproduce quella di Masabielle. Qui Papa Francesco ha concluso il rito con una breve meditazione. Maria, ha detto, è andata di fretta dall'anziana cugina Elisabetta. Non ha perso tempo, subito è andata a servire. È la vergine della prontezza, ha aggiunto il Papa. Subito è pronta a darci aiuto quando noi la preghiamo, quando noi chiediamo il suo aiuto, la sua protezione. In tanti momenti della vita in cui abbiamo bisogno e proseguito, dobbiamo ricordare che lei non si fa aspettare e la Madonna della prontezza subito va a servire. Stella della nuova evangelizzazione, hanno invocato la vergine tutti presenti nella preghiera guidata dal cardinale Comastri. Aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.